L'ultima promessa è quella di inserire il finanziamento nel bilancio regionale di fine dicembre. Promessa che non cancella una delusione pesarese che attende ancora mezzo milione della Regione Marche destinato all'evento di Pesaro Capitale della Cultura, ovvero metà di quanto prefissato dalla Giunta Acquaroli per Pesaro 2024. Un ritardo frustrante dopo che lo stanziamento non è stato ritenuto prioritario nemmeno nell'assestamento di bilancio della settimana scorsa. La Regione ha stanziato nel 2022 un milione di euro, cioè quello che aveva promesso. Dopodiché qualche settimana dopo l'ex assessore alla cultura, Lattini, si è presentata in commissione chiedendo di spostare 500 mila euro del milione assegnato per spostarlo ritenendo altri progetti più urgenti e più importanti. Già in quella fase nel 2022 mi ero posto dicendo che più importante di Pesaro Capitale della Cultura secondo me non ci potevano essere progetti ancora più importanti ma quindi questi 500 mila euro sono stati dirottati da un'altra parte. Oggi siamo qualche mese ormai da quando inizierà Pesaro 2024 e ancora nonostante i tre emendamenti che ho fatto dal 2022 fino a qualche giorno fa ancora la Regione non ha ripristinato i 500 mila euro che ha dirottato per altri progetti. Io penso che questo sia veramente molto grave perché addirittura in aula qualche settimana fa è stato dichiarato che non era urgente e che Pesaro non era tra le priorità. È consistito perché ad oggi l'amministrazione avrà bisogno di risorse certe per poter programmare probabilmente verranno inserite qualche giorno prima della fine dell'anno ma questo è molto grave perché Pesaro avrà bisogno di risorse prima per poter programmare tutti gli eventi che saranno fatti nel 2024. Già sono pochi rispetto ad altre regioni, ci mancherebbe altro che non arrivasse. Io confido che arrivino il prima possibile, del resto la Capità della Cultura si farà ma si farà con le risorse che ci verranno date, con quelle che stiamo trovando dalle varie sponsorizzazioni e quindi la Regione Marche dovrebbe essere secondo me più fiera di questo riconoscimento. È la prima volta che capita una città delle Marche e non solo ci aspettiamo quel contributo ma ci aspettiamo anche che la Regione promuova maggiormente la Capità della Cultura perché attraverso la Capità della Cultura noi vogliamo promuovere tutte le Marche. Abbiamo già coinvolto tutti i comuni della provincia, sarebbe davvero un peccato che questo grande avvenimento non diventasse un modo per promuovere l'intera Regione.